Al Papa che messaggio intendete portare? Intanto gli mando gli auguri perché è il nostro faro, tanto le parole che noi diciamo sono le reteggiate al Papa, quindi è veramente un punto di riferimento importante. Io mio figlio a 8 anni l'ho chiamato caro, quindi fate un po' i debiti conti, vedete.